La novità che continuiamo a presentare da un po' di tempo è l'olio spray in confezione di alluminio che si fonda sulla eliminazione di propellenti di natura chimica, quindi è uno spray, un nebulizzatore 100% naturale che consente di ridurre drasticamente il consumo del condimento e allo stesso tempo di conservarlo in maniera ottimale. Continuiamo a fare ricerca e sviluppo che è un po' la nostra anima perché il mondo dell'olio d'oliva ma anche degli oli vegetali è un mondo totalmente statico. Noi riteniamo che ci sia molto spazio per innovare e le innovazioni al momento che nascono poi cerchiamo di perfezionarle nel tempo, contestualmente ci occupiamo di innovare e siamo già in fase di studio e di lancio di nuove innovazioni.